ultimissimi aggiornamenti di calciomercato inter e non solo tante notizie uscite nelle scorse ore di cui parlare e che andiamo a riassumere all'interno del nostro contenuto di oggi in questo consueto format delle top news di giornata che apprezzate sempre che ci richiedete sempre più spesso abbiamo tante cose di cui parlare alcune di calciomercato le prime due che andrò ad affrontare mentre le successive di argomenti differenti dato che poi l'inter si prepara a breve a disputare la sua ultima amichevole sabato contro il Villareal e poi la settimana prossima sempre di sabato inizierà la serie A quindi il calciomercato andrà anche leggermente in secondo piano ci sono però degli aggiornamenti che riguardano in particolare Cesare Casadei e Alexis Sanchez molto importanti cose finalmente concrete di cui parlare poi faremo un accenno su una notizia uscita questa mattina su Robin Gosens che è molto interessante ed infine due piccole curiosità che arrivano da Inter pergolettese disputata ieri al Suning Training Center c'è stato questo allenamento congiunto con la pergolettese squadra di Serie C partita terminata 8 a 0 ma c'è una curiosità in particolare che vi vorrò dire proprio in chiusura per come curiosità appunto rispetto a questa uscita amichevole andiamo subito però nel contenuto prima vi ricordo come sempre un mi piace e un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto così non vi perdete tutti i nostri contenuti quotidiani non vi perdete la diretta ogni giorno alle 19.30 e ovviamente la diretta per ogni partita anche sabato contro il Villareal saremo live e vivremo insieme l'ultima amichevole dell'Inter di Simone Inzaghi Allora cominciamo da Casa Dei notizie importanti dicevamo ne abbiamo parlato anche nella diretta di ieri perché ci sono degli aggiornamenti non indifferenti che arrivano direttamente da Londra in particolare l'Evening Standard che è un quotidiano londinese ieri è uscito con un articolo che parla di un'offerta molto pesante che il Chelsea sarebbe pronto ad avanzare all'Inter si parla di 20 milioni di sterline che al cambio sono circa 24 milioni di euro e capite bene che per un giocatore che ha giocato solo in primavera e che non ha neanche una presenza nel calcio dei grandi sono soldi veramente molto pesanti può sembrare un'offerta folle e forse per certi versi lo è in realtà lo spiegavano appunto sul Living Standard ieri rientra all'interno di un progetto che il Chelsea ha ben chiaro in mente e che è già partito un progetto di investimento su giovani su calciatori molto giovani tra l'anno 2003 e il 2004 più o meno Casa Dei è un 2003 sono già stati fatti quattro acquisti infatti in questo senso tre giocatori del 2003 e uno del 2004 ai quali si vorrebbe aggiungere appunto Cesare Casa Dei peraltro uno di questi quattro calciatori è stato acquistato per una cifra molto simile a quella di Casa Dei e anche lui non è che avesse grandissima esperienza nel calcio dei grandi qualche presenza in più rispetto a Casa Dei che non ne ha però comunque non è un profilo troppo diverso dal punto di vista dei dati e delle statistiche in particolare c'è uno dei responsabili dello scouting del Chelsea, Neil Bath, veniva proprio citato nell'articolo che starebbe seguendo Casa Dei ormai da mesi e vorrebbe insomma portarlo a Londra molto deciso rispetto al suo potenziale futuro dal punto di vista dell'Inter, l'abbiamo raccontato spesso anche qui su Passione Inter, la lettura rispetto alla gestione di Casa Dei è molto chiara l'Inter vorrebbe o cederlo in prestito a qualche club italiano oppure è risposta anche alla cessione definitiva ma solo inserendo nell'operazione il diritto di recompra, questo perché su alcuni giovani in particolare tra cui appunto Casa Dei l'Inter non vorrebbe perdere il controllo definitivo del ragazzo e non vorrebbe evitare che a fronte di un'esplosione improvvisa non vorrebbe evitare di averlo perso completamente. È evidente però che nel momento in cui il giocatore viene richiesto dal Chelsea e viene fatta un'offerta di questo tipo è molto difficile per non dire impossibile pensare di inserire un diritto di recompra quindi qualora davvero arrivasse all'Inter un'offerta da 24 milioni di euro dal Chelsea la mia opinione è che l'Inter difficilmente direbbe di no e accetterebbe la cessione, la perdita di Casa Dei perché è vero che è un giocatore molto promettente, è vero anche che di giocatori molto promettenti dalla primavera ne abbiamo commentati tanti negli ultimi anni e Zaniolo a parte non è che poi gli altri abbiano fatto chissà quali grandi carriere quindi il ragionamento dell'Inter potrebbe essere intanto mi prendo questi quasi 25 milioni che peraltro mi fanno anche comodo vista la situazione economica e poi vediamo come va mi dispiacerebbe molto perché Casa Dei è un giocatore appunto promettente come tanti altri ma lui in particolare ha fatto anche un sacco di gol francamente però vi dico la verità faticherei a criticare la società nel momento in cui accetti un'offerta di questo tipo io personalmente non la criticherei, poi chiaramente mi farete sapere anche voi nei commenti quindi rimaniamo in attesa, vediamo un po' se questa offerta del Chelsea arriva effettivamente oppure no però occhio perché l'interesse è concreto ed è reale Seconda novità di mercato, Alexis Sanchez, ieri c'è stato un incontro con il suo agente Felicevic per trovare finalmente l'accordo definitivo sulla buon'uscita e sulla rescissione contrattuale ci siamo vicini ma non è stato ancora, almeno nel momento in cui sto registrando questo contenuto non è stato ancora trovato a tutti gli effetti questo accordo una cosa è certa, l'Inter deve mettere in conto che dovrà spendere dei soldi e probabilmente nemmeno pochi perché Sanchez, lo sappiamo, ha comunque anche una considerazione di sé molto alta ritiene di essere ancora un giocatore molto importante riteneva anche di poter essere ancora un protagonista all'interno dell'Inter nella prossima stagione quindi accettrà di andare via solo a fronte di un l'autocompenso, diciamo così Peraltro poi ieri è stato anche intercettato da alcuni colleghi fuori da un ristorante a Milano e ha rilasciato qualche brevissima dichiarazione per chi ci sta seguendo da YouTube vi condivido anche l'articolo che trovate sul nostro sito passioneinter.com Sanchez ha dichiarato l'addio all'Inter, chiedete a lui, indicando il suo procuratore sono tranquillo, io voglio giocare, voglio ancora vincere Ehi amico, il leone è così, qui torna un po' il tormentone post Supercoppa Se mi aspettavo qualcosa di più, dice Sanchez, sempre, però sono felice per il messaggio ai tifosi è ancora presto Dichiarazioni un po' enigmatiche, diciamo così le conferme riguardo il fatto che i discorsi proseguono e sono abbastanza vicini ad una conclusione comunque stanno arrivando, quindi siamo vicini comunque all'addio di Sanchez che dovrebbe andare al Marsiglia e non verrà sostituito questa è una cosa molto importante da specificare l'Inter non ha in programma di sostituire Sanchez si è parlato di Mertens, di altri giocatori no, l'Inter, come ha detto anche lo stesso Inzaghi, ha già deciso quattro attaccanti che sono quelli che ha più una quinta punta giovane che al 90% sarà Valentin Carboni quindi Sanchez andrà via, alleggerirà il monte ingaggi di tanto perché ha un ingaggio molto pesante e non verrà sostituito le due notizie non di mercato che sono secondo me anche quelle un po' più curiose parto da Robin Gosens questa mattina Tutto Sport dà una lettura diversa rispetto alla situazione di Gosens che francamente posso trovare anche più verosimile rispetto ad altre che abbiamo letto in passato ovvero che il problema di Gosens, secondo Tutto Sport, non sarebbe fisico ma psicologico è una dinamica comune che accade nel mondo dello sport e non solo nel calcio quando un giocatore subisce un infortunio molto pesante come di fatto quello che ha avuto lui può capitare che anche a fronte di un recupero clinico certificato a livello psicologico il giocatore sia ancora un po' bloccato è la classica dinamica che molto spesso porta alcuni giocatori a infortunarsi a livello muscolare sulla gamba opposta rispetto a quella dove magari hanno avuto un problema al crociato o comunque di questa natura perché si corre un po' male perché si tende a voler forzare poco sulla gamba già infortunata e la conseguenza classica è l'infortunio all'altra in questo senso sempre Tutto Sport poi scriveva che Inzaghi ha bisogno comunque di lui lo sappiamo sta cercando di aiutarlo di fargli superare questo problema anche perché i test fisici a cui Gosens si continua a sottoporre danno sempre risultati positivi a conferma del fatto che quello di Gosens non è un problema fisico non ha degli strascichi in questo senso è possibile, questa è una lettura che scriveva questa mattina Tutto Sport e che io trovo verosimile poi non è detto che sia così anche perché bisognerebbe essere nella testa di Gosens per saperlo però secondo me è plausibile che ci possa essere un problema di questo tipo è molto importante superarlo e recuperarlo perché poi tra le altre cose in queste ore si è parlato di possibili nuovi arrivi sulla fascia sinistra dell'Inter io ho sempre pensato fossero difficili in ogni caso si è parlato di Udogi che però è vicinissimo al Tottenham notizia di queste ore di Kostic che però sembra vicinissimo alla Juventus sostanzialmente la risposta è serve il miglior Gosens quindi speriamo che ne esca da questo eventuale problema e che ci faccia vedere quel che vale perché vale veramente tanto ultima cosa, una piccolissima curiosità su Inter per golettese dicevamo si è giocata ieri al centro sportivo Suning 8 a 0 risultato finale, doppietta di Lautaro Martinez gol di Dzeko, di Gagliardini, di D'Ambrosio un autogol e nella ripresa gol di Cialanoglu e di Romelu Lukaku vi segnalo che sul sito dell'Inter, inter.it trovate il video con gli highlights se volete vederveli il gol di Lukaku è il classico gol ha fatto un gran bel gol d'Ambrosio quindi vi consiglio di recuperarli c'è il video che dura circa 3 minuti la curiosità di cui volevo parlarvi riguarda la Lula perché rispetto a tutte le uscite amichevoli che abbiamo visto anche in diretta televisiva in questa sgambata Inzaghi ha provato la Lula alternata diciamo così quindi nel primo tempo Lautaro Martinez in coppia con Edin Dzeko nella ripresa Romelu Lukaku in coppia con Joaquin Correa vedremo se sarà se questo esperimento troverà una nuova troverà continuità anche contro il Villareal sabato io non credo io penso che l'Inter comunque giocherà il più possibile con la Lula però magari a partita in corso si potranno vedere queste coppie miste spero di non vedere lo dico subito cambi a blocchi non è la prima volta che lo dico cioè spero di non vedere la Lula sostituita poi in blocco per far entrare Gieco Correa nelle gare di campionato di Champions non me lo auguro assolutamente e spero di non vederlo in ogni caso ecco Inzaghi sta testando anche le coppie miste e questo secondo me è un bene perché può sempre fare comodo queste erano le principali notizie di giornata io vi ricordo che siamo in un momento molto caldo della stagione e anche del calciomercato quindi vi rimando come sempre a passionainter.com il nostro sito dove trovate tutti gli aggiornamenti su tutte le altre notizie vi invito ancora una volta a mettere un mi piace e ad iscrivervi al canale perché anche qui sui nostri canali ve le riporteremo quotidianamente con i video con i contenuti podcast e con le dirette delle ore 19.30 vi ricordo anche www.passioneinter.club se volete supportarci innanzitutto in questo nostro progetto e se volete entrare di più nel mondo di Passione Inter entrando sempre più a contatto con tutti gli altri abbonati e con la redazione di Passione Inter ed infine se mi stai seguendo in podcast ti lascio in descrizione il link al contenuto di ieri è una notizia che in questo contenuto non sono riuscito a trattare per questo ti rimando a quella di ieri che riguarda Jaffe Tanganga giocatore del Tottenham difensore che l'Inter sembra star seguendo con grande interesse se mi stai seguendo in podcast ti lascio il link in descrizione se invece mi stai seguendo su YouTube il link ti compare qui alla mia destra clicca e dimmi che ne pensi